Grazie mille di essere qua stamattina, ho il cellulare in mano un po' come atto di protesta contro il dispositivo del ministero che non vuole più cellulare a scuola, ma anche perché mi serve il timer perché ho paura sennò di andare troppo lunga, quindi scusatemi, adesso lo inserisco e così io so quanto tempo vi parlo perché io su Gianni Rodari potrei parlare anche due giorni, ma immagino che voi non abbiate tutto questo tempo, quindi eccolo, iniziato, buongiorno. Allora oggi parleremo, se per cortesia metti la prima slide del libro degli errori, sto qua in piedi. Il titolo che abbiamo dato a questo incontro è per esempio la torre di Pisa, vedremo perché, anzi lo vedremo subito perché. Questa è la copertina della prima edizione del libro degli errori, libro che è uscito per Einaudi nel 1964, illustrazioni bellissime di Bruno Munari. Questa è la dedica del libro degli errori, magari molti di voi la conoscono, ma io ci tengo a leggerla insieme, soprattutto insieme alle poche ma importanti persone giovani che sono qua presenti stamattina. Scrive Gianni Rodari in questa dedica che intitola tra noi padri. Per molti anni mi sono occupato di errori di ortografia, prima da scolaro, poi da maestro, poi da fabbricante di giocattoli, se mi è permesso di chiamare con questo bel nome le mie precedenti raccolte di filastrocche e di favolette. Dall'una di quelle filastrocche, per l'appunto dedicate agli accenti sbagliati, ai cuori malati, alle zeta abbandonate, sono state accolte troppo onore perfino nelle grammatiche. Questo vuol dire, dopo tutto, che l'idea di giocare con gli errori non era del tutto eretica. Ma vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Se si mettesse insieme le lacrime versate nei cinque continenti per colpa dell'ortografia, ci otterrebbe una cascata da sfruttare per la produzione dell'energia elettrica, ma io trovo che sarebbe un'energia troppo costosa. Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli, per esempio la torre di Pisa. Questo libro è pieno di errori e non solo di ortografia, alcuni sono visibili a occhio nudo, altri sono nascosti come indovinelli, alcuni sono versi, altri in prosa. Non tutti sono errori infantili e questo risponde assolutamente al vero. Il mondo sarebbe bellissimo se ci fossero soltanto i bambini a sbagliare. Tra noi padri possiamo dircelo, ma non è male che anche i ragazzi lo sappiano. E per una volta permettete che un libro per ragazzi sia dedicato ai padri di famiglia e anche alle madri si intende, anche ai maestri di scuola, a quelli insomma che hanno la terribile responsabilità di correggere senza sbagliare i più piccoli e innocui errori del nostro pianeta. Intanto la dedica tra noi padri, insomma questo appello diciamo a una figura chiave nell'educazione, no? Storicamente la figura del padre, sempre vista appunto come una figura dalla quale deve emanare una autorità che non si discute, non rispondere, no? La frase appunto del non si risponde, in questa casa non si risponde. Quello che invece Rodari invita a fare con questa prefazione è di immaginare intanto innanzitutto una nuova idea di padre e di madre e di maestro e di maestra, insomma è di relazione educativa, nella quale prendendo coscienza del fatto che sono gli adulti a fare gli errori più grandi, si inizia a diventare anche un po' più tolleranti verso gli errori dei bambini, che in fondo gli errori ne fanno di piccolini. Partiamo da un primo racconto, il grande inventore. Una volta c'era un giovane che sognava di diventare un grande inventore, studiava giorno e notte, studiò diversi anni e finalmente si disse, ora ho studiato abbastanza, ora sono uno scienziato e mostrerò tutto il mio valore. Cominciò subito a fare esperimenti e riuscì a inventare i buchi nel formaggio, ma poi seppe che erano già stati inventati, ricominciò tutto da capo, studiava sera e mattina, studiò molti mesi e finalmente si disse, basta così, ora sono veramente uno scienziato, si vedrà quello che so fare. Difatti si vide, inventò i buchi nell'ombrello e fece ridere tutti quanti, ma lui non si perdette di coraggio, per questo si riattaccò ai libri, rifece esperimenti su esperimenti e finalmente si disse, beh ora sono sicura di non sbagliarmi, ora sono uno scienziato sul serio, ma invece era ancora uno scienziato con un piccolo errore. Inventò una nave che viaggiava a pastelli, costava un po' troppo e colorava tutto il mare, non mi arrenderò per questo, disse il bravo giovane che intanto cominciava a mettere i capelli grigi. Studiò, studiò e studiò tanto che diventò uno scienziato con tutte le consonanti e le vocali a posto e allora poteva inventare tutto quello che volle. Inventò una macchina per andare sulla luna, un treno che consumava appena un granello di riso ogni mille chilometri, le scarpe che non invecchiano mai e tante altre cose, però il sistema di diventare scienziati senza fare errori non riuscì a inventarlo nemmeno lui e forse non lo inventerà mai nessuno. In questa storia bellissima del libro degli errori troviamo proprio la prima radice, il seme dal quale nasce l'interesse di Gianni Rodari per gli errori, che è appunto un interesse che deriva dal suo interesse per la scienza. Ma da dove viene questo suo primo interesse per la scienza. Gianni Rodari nasce a Omegna, quindi in Piemonte, nel 1920, cresce in una famiglia con un padre fornaio e una mamma che aiuta questo papà appunto nel forno, ma presto a nove anni diventa orfano perché il papà muore per una broncopolmonite. In questa infanzia di Rodari c'è diciamo una cosa che appartiene alla tradizione contadina italiana, io sono cresciuta con una nonna contadina ed era la sua storia quella che appunto mi racconta anche Rodari, cioè le veglie, le veglie nella stalla la sera all'unico luogo caldo della casa dove le persone anziane raccontavano le storie, storie soprattutto di paura perché quelle erano le storie che richiedevano i bambini, ma quando Rodari inizia a leggere essendo anche un bambino timido inizia ad appassionarsi dei pochi libri che il papà e la mamma a quel punto diventata vedova gli regalano e il primo libro, no il primo libro è il libro cuore che lui legge sul quale piange come credo tutti noi grandi lacrimoni, ma l'altro libro fondamentale per la sua vita è il viaggio al centro della terra di Jules Verne. Rodari parlerà di Verne fino alla fine dei suoi giorni, c'è un'intervista bellissima che gli fa Nico Rengo in televisione nel 1979 nella quale si chiede a Gianni Rodari chi è il tuo scrittore preferito e ancora nel 1979 Gianni Rodari dirà a Jules Verne perché questo scrittore che oggi in realtà non si legge nemmeno più tanto, no? È così importante nella sua formazione perché per Rodari Jules Verne è diciamo colui che riesce a mettere insieme l'attenzione per la scienza e quindi per il tempo presente in cui vive con la letteratura. Nei romanzi di Jules Verne la scienza del suo tempo, la scienza del suo tempo entra perfettamente attraverso tutte le scoperte scientifiche che vengono fatte e che Verne inserisce nelle sue storie. A un certo punto Rengo dice a Rodari ma quindi Verne era uno scrittore profetico. Alzi la mano chi non ha mai sentito l'aggettivo profetico riferito a qualche scrittore o scrittrice, più scrittori e scrittrici raramente sono profetiche, però insomma qualche scrittore intellettuale appunto del suo tempo. In realtà Rodari dà una lezione molto molto utile secondo me a sfuggire a questa idea che si possa essere profetici. Dice ma che profetico? Verne era una persona che guardava alla scienza del suo tempo, si interessava alle scoperte, si interessava alle scoperte scientifiche, le prendeva sul serio e nei suoi libri parlava delle cose che si stavano scoprendo. Per questo i suoi libri sono libri dai quali a partire dalla possibilità della scienza si immagina il futuro perché l'immaginazione di Verne è un'immaginazione che nasce dal fatto che proprio in quel momento si iniziano a esplorare i continenti, a esplorare pure il cielo con le mongolfiere e a iniziare a pensare che si può esplorare addirittura il centro della Terra. Bene non so se vi ricordate a un certo punto in viaggio al centro della Terra questa conversazione fra i due protagonisti, lo zio e il nipote, hanno appena scoperto che dentro la Terra ci sono dei grandissimi mari, uno di questi appunto questo mare che viene definito una specie di mare mediterraneo sotto la Terra e iniziano a fare una serie di ipotesi sui motivi per cui ci sono questi mari sotto la Terra e fanno delle ipotesi, ne discutono, guardano l'evidenza che hanno intorno a sé e insomma iniziano ad applicare nella loro conversazione quello che è il metodo scientifico, cioè un metodo che si fonda sull'osservazione, sulla formulazione di una ipotesi e poi sulla messa in discussione dell'ipotesi a partire da una osservazione di tipo diverso e quello che dice appunto lo zio e il nipote è questa frase che è rimasta fondamentale nella formazione di Gianni Rodari. La scienza, mio ragazzo, è stata costruita su tantissimi errori ma sono errori che sono stati importantissimi, nei quali è stato importantissimo cadere perché attraverso questi errori siamo arrivati alla verità. Quindi il piccolo, il bambino Rodari per la prima volta incontra l'errore come uno stimolo a ricercare la verità ma non attraverso la cociutaggine, non attraverso la rivendicazione dell'errore, come dire le cose sono così ma non c'è niente che lo dimostra, ma attraverso una ricerca costante che è fatta appunto come è quella del metodo scientifico. Questo è un giovane Rodari, un giovane ragazzo Rodari che cresce negli anni del fascismo. La generazione che cresce nel fascismo diciamo è una generazione che se non, insomma se curiosa, se interessata a quello che accade nel mondo trova ovviamente nella letteratura, nelle traduzioni un grandissimo stimolo ad allargare il mondo. Vi ricorderete insomma la bellissima conversazione che c'è fra Vittorini e Pavese proprio sull'importanza delle traduzioni per tenere questa generazione sveglia, per leggere cose che in Italia non si riusciva nemmeno più a dire e a pensare. Quali sono i libri che legge Rodari? È importante ricordarselo perché bisogna capire come questa idea che sboccia nel piccolo Rodari da bambino dell'errore come un elemento che può portare alla verità attraverso esperimenti, provare, 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 come diceva non ci resta che piangere di Benigni e Troisi. Ecco, questo ragazzo si forma leggendo questi tre libri che c'entra l'errore, in questi tre libri c'entra. Va bene, il primo libro sono i frammenti di Novalis che porteranno alla grammatica della fantasia, ma questa è un'altra storia, la racconto in un libro che sta là fuori, se vi interessa sta lì e si intitola un libro da Red Argento. Molto velocemente però in questo libro Rodari legge una cosa che lo colpisce tantissimo, proprio perché è interessato alla cultura filosofica, scientifica, lui legge questa frase se avessimo una fantastica, così come abbiamo una logica, avremmo inventato l'arte di inventare le storie. Quindi lui sta cercando un modo per inventare le storie, vuole fare lo scrittore, vuole inventare le storie, ma vuole che questa invenzione delle storie abbia un metodo. Lui ancora sta inseguendo quell'idea del metodo scientifico che può servire anche a inventare le storie. Dove trova degli strumenti che gli servono per andare avanti in questa ricerca? In questi altri due libri. Eugenio Montale è stato per quella generazione, anche perché è venuto dopo, ma veramente è stato colui che ha dato il nome alle cose, è stato detto di Eugenio Montale. In questa poesia, che purtroppo è I limoni, e non vi copio tutta e non vi leggo tutta perché è molto lunga, c'è un passaggio che dice, spero che tutti quanti voi vi ricordate I limoni, appunto che è questo omaggio a questa pianta semplice, semplice che non sta mai nelle poesie, no? Perché nelle poesie i poeti scelgono sempre piante dai nomi complicati, bossi, ligustri o acanti. Io, dice Montale, preferisco le piante quelle che incontro quando cammino sui viottoli, verso il mare. E queste piante sono i limoni, il cui profumo, il cui colore mi lascia intravedere su in cima, fra i tetti delle case, il cielo e mi fa immaginare qualcosa di diverso da quella guerra costante che noi tutti i giorni viviamo. Però poi dice, appunto, in questi silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura. Questa cosa dello sbaglio di natura, che cosa è lo sbaglio di natura? Lo sbaglio di natura è il punto morto del mondo, l'anello che non tiene. Voi siete un ragazzo di vent'anni e intorno a voi c'è il fascismo, è una guerra minacciata che diventerà verità di lì a poco. E arriva un poeta che vi dà la chiave di lettura per guardare questa realtà e dire guardate che in questa realtà c'è un anello che non tiene, c'è un varco, c'è un varco attraverso il quale si può passare per immaginare qualcosa di completamente diverso. E questo varco è l'errore di natura, l'anello che non tiene, cercare l'errore come strumento per passare a qualcosa di diverso. Questo no è intanto. E poi il terzo libro è l'incontro col surrealismo. Surrealismo da questo punto di vista è fondamentale. L'Autremont che è uno scrittore surrealista dice che noi dobbiamo cercare quando scriviamo il bello come l'incontro casuale di una macchina da cucire di un ombrello su un tavolo operatorio. Che cosa c'è di bello in una macchina da cucire o un ombrello su un tavolo operatorio? La bellezza che si trova in questo incontro assolutamente inattesa è la bellezza della sorpresa di accostare due cose che tra di loro non c'entrano niente e che possono invece creare un'immediata confusione di sensi che faccia immaginare qualcosa di completamente diverso. Appunto l'anello che non tiene, l'errore di natura, il sommergibile, il dirigibile che sta in aria mentre appunto gli edifici stanno sott'acqua. Tutto ciò che può in qualche modo farci guardare la realtà e dentro la realtà immaginarci qualcosa di completamente diverso. Perché è importante questo? È importante perché la realtà a volte fa schifo. La realtà dopo il 1938, dopo le leggi razziali, con l'imminenza della guerra diventa completamente opaca, è molto difficile vedere che cosa succederà. Allora avere degli strumenti che sono strumenti anche del pensiero per immaginare qualcosa di diverso, per immaginare che dietro quella realtà, quella facciata, ci sia qualcosa che può essere appunto immaginabile e quindi cambiare tutto il mondo diventa un esercizio fondamentale. Per questo i surrealisti sono così importanti per Gianni Rodari e per la sua generazione. Questo conoscete insomma sicuramente appunto questo quadro di Magritte Golconda del 1953, appunto queste persone sospese per aria, no? In questa città abbandonata dell'India. E' quest'idea che ha Magritte come tutti i surrealisti che questa educazione, educazione a spiazzare il punto di vista delle persone, è un'educazione profondamente politica. Bisogna imparare a spostare il nostro punto di vista attraverso l'inatteso per cercare qualcosa che ancora non c'è. Perché questa è l'unica possibilità che abbiamo per cambiare le cose. Dirà Rodari tanti anni dopo. Quanta fantasia deve aver avuto Marx per immaginare un mondo nel quale gli operai non erano più sfruttati? Ci vuole tanta fantasia per immaginare la trasformazione del mondo, ma questa fantasia deve essere stimolata da qualcosa di inatteso. E questo qualcosa di inatteso la poesia può fartelo incontrare, così come l'arte e così la letteratura. Ieri non so chi di voi è andato a sentire Paolo Nori che parlava di Viktor Slavski e di Viktor Slavski appunto c'è questa frase bellissima. Molti anni fa mio figlio venne da me e mi disse papà i cavalli non hanno le corna. No, i cavalli non hanno le corna. Così un bambino scopre la vita, scopre la farfalla, il colore dell'abete, la cupa, insana emozione del traghetto su una zattera. I bambini nascono tutti uguali, i poeti sorgono diversamente. In quella frase i cavalli non hanno le corna c'è questo esercizio di fantasia che rende i bambini e le bambine ovviamente delle figure per le quali è molto semplice immaginare un mondo che ancora non esiste e sui quali esercitarsi proprio per educare a questa possibilità che l'errore, quello che normalmente viene considerato lo sbaglio di natura in realtà possa portare a qualcosa di completamente diverso. C'è una lettera bellissima di Gramsci a suo figlio. Gramsci è in carcere da un anno, scrive al figlio Deo nel 1927 per dirgli che ha adottato una lucertola e una rosa. Ovviamente il bambino sa benissimo cos'è una lucertola, però anche Gramsci gioca con questa tecnica che si chiama tecnica dello straniamento, no? Appunto far vedere qualcosa di consueto come qualcosa di misterioso e diverso. Sai Delio che cosa è una lucertola? È un coccodrillo ma piccolo. Allora in questo gioco che si fa appunto col bambino c'è appunto questo tentativo di trasformare il mondo attraverso la fantasia. Questa non è una pipa. È una pipa? No. Ok. Siamo tutti d'accordo. Gianni Rodari divide gli errori in due, gli errori in rosso e gli errori in blu. Chi ha, non so insomma se le bambine presenti qua dentro hanno ancora insegnanti che usano le matite blu e le matite rosse. Sì, ok, quindi non si fa ancora. E comunque sì, io ho ancora i miei quaderni della primaria, delle elementari e ci sono gli errori blu e gli errori brossi. Gli errori rossi sono gli errori così e così, gli errori blu invece sono per Rodari gli errori molto gravi. Ora questi errori, di solito è il contrario, però invece Rodari applica il metodo, ci ho pensato tanto, delle elezioni americane, per cui alla fine no, i rossi sono i repubblicani e i blu sono i democraci. Esatto, vabbè, comunque insomma per lui funziona così. Qual è l'errore blu più grave di tutti? La guerra. L'errore proprio blu per Antonomasia è la guerra e non è un errore che fa un bambino. Armi dell'allegria. Eccole qua le armi che piacciono a me. La pistola che fa solo PUM o BANG se ha letto qualche fumetto, ma Buki non ne fa. Il cannoncino che spara senza fare tremare nemmeno il tavolino. Il fuciletto ad aria che talvolta per sbaglio colpisce il bersaglio ma non farebbe male né a una mosca né a un caporale. Armi dell'allegria, le altre per piacere, ma buttatele tutte via. Chiaramente la guerra è l'errore peggiore che gli adulti possono fare. Una guerra appunto nella quale Rodari passa, ma che attraversa insomma come tutte le persone della sua generazione e negli anni della guerra legge come molti suoi coetanei, ama moltissimo e traduce e traduce questo grandissimo poeta che è stato Bertolt Brecht o Brecht per quelli che parlano bene il tedesco. Brecht scrive questa poesia bellissima che per Rodari sarà un punto di riferimento costante, la troveremo in tantissime sue poesie. Chi sta in alto dice pace e guerra sono di essenza diversa. La loro pace e la loro guerra sono come il vento e la tempesta. La guerra cresce dalla loro pace come il figlio dalla madre. Ha in faccia i suoi lineamenti ordidi. La loro guerra uccide quello che alla loro pace è sopravvissuto. La guerra è l'errore più grande che possono fare gli esseri umani ed è ipocrita dire che quando finisce la guerra c'è la pace, perché la pace è soltanto una pausa fra una guerra e l'altra. C'è una poesia che Rodari dedica appunto a questo tema che è ovviamente dopo la pioggia viene il sereno, spunta nel cielo l'arcobaleno. Bene, in questa poesia Gianni Rodari riprende, senza ovviamente citarlo perché è una poesia per bambini, per bambine, questa 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 poesia di Brecht dicendo ma lui viene l'arcobaleno e questo è male soltanto dopo il temporale, ma non sarebbe molto meglio appunto che il temporale non ci fosse per niente. Un temporale, un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe una festa, sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra, non senza la guerra, ma prima della guerra, proprio perché la pace deve avere un'essenza diversa dalla guerra, non deve essere l'alternativa alla guerra e questo appunto è l'errore più grande che fanno gli adulti. E sempre appunto attraverso lui Rodari che pensa tantissimo a questa cosa, che attraverso la poesia si possono far vedere le cose in un altro modo, inizia a pensare che questo far vedere le cose in un altro modo deve servire a far vedere il mondo in un altro modo, non soltanto la letteratura ma appunto anche la realtà. Mi piaceva tantissimo questa fotografia della prima di questa opera di Brecht che Rodari ama molto che è La vita di Galileo al piccolo a Milano, ma soltanto perché mi piaceva la foto ma perché questo libro è così importante? Perché La vita di Galileo di Bertolt Brecht che è un libro che io vi consiglio tantissimo di leggere se non avete letto e soprattutto di farlo leggere ai ragazzi e alle ragazze fra i 13 e i 15 anni, a me me lo diede da leggere la mia professoressa di matematica come compito delle vacanze di matematica del primo anno di liceo classe, della quarta ginnasio, come compito delle vacanze di matematica per dire chi era la mia professoressa Zelinda che succede nella vita di Galileo di Bertolt Brecht? A un certo punto c'è una conversazione fra Galileo che sappiamo tutti chi è, cioè proprio tutti, 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 insomma tanti di noi lo sanno e Andrea che è il suo piccolo assistente che è a 11 anni. Che succede? Allora Galileo sappiamo che sta lì a dannarsi per dimostrare a questo mondo di testoni che praticano l'errore sistematico ma non scientifico, cioè quello di intignarsi su una teoria sbagliata senza nessuna evidenza scientifica e non volerla mettere in discussione, ovvero il fatto che il sole ruota intorno alla Terra. Tu intanto hai capito quello che ti ho detto ieri, dice Galileo ad Andrea, e Andrea dice ma cosa, ma quella faccenda di Chipernico e della sua rotazione? E Galileo dice già, no ma perché vi ostinate a farlo capire a me? È difficile, non ho ancora 11 anni, li compirò ad ottobre. Proprio questo voglio che anche tu lo capisca, proprio perché lo si capisca io lo sto lavorando tanto e mi compro quei libri che costano un occhio invece di pagare il lattaio perché pare che Galileo avesse sempre problemi di soldi. Ma io non lo vedo che il sole la sera, ma io lo vedo che il sole la sera sta in un punto diverso che al mattino, dunque non sta fermo mai e poi mai. E Galileo tu lo vedi, ma che vedi tu un bel niente, guardi come un allocco, è molto diverso che vedere. La rivoluzione scientifica, l'idea che il metodo scientifico sia un metodo che deve cambiare la letteratura e attraverso la letteratura deve cambiare il mondo, ritorna tutta intera dentro questa figura di Brecht che Rodari veramente traduce, legge e riporta senza farcene accorgere in tantissime sue filastrocche e storie per bambini e bambine. Brecht è arrivato all'infanzia degli anni 50 e 60 attraverso Gianni Rodari. Ho una testimonianza molto bella di Celeste Ingrao, la figlia di Ingrao che appunto mi ha raccontato mentre stavo scrivendo la biografia di Rodari di come il padre le leggesse ad altavoce queste storie e appunto parlandole anche degli altri grandi libri che c'erano dietro. Quindi diciamo è proprio qualcosa veramente di importante che accade nella cultura di quegli anni. Quindi abbiamo il metodo scientifico, il metodo scientifico che arriva dentro i libri per bambini e per bambine di Gianni Rodari. Il dubbio, bisogna praticare il dubbio come metodo perché la realtà può non essere quella che ci sembra, perché noi siamo come Andrea, noi vediamo, noi guardiamo anzi ma non vediamo. E perché non vediamo? Perché non abbiamo le parole per immaginare qualcosa di diverso. Noi guardiamo ma non vediamo il mondo spesso che ci circonda, non riusciamo a vedere quell'errore appunto nella natura, quell'annello che non tiene perché non abbiamo abbastanza curiosità. Se noi vediamo una mela che casca da un albero, cosa pensiamo? Una mela è cascata da un albero. Non pensiamo, oh, la legge di gravità universale, no? Quanta immaginazione ci vuole per vedere un fatto così consueto come la mela che cade dall'albero o la muffa per immaginare, come diceva sempre Roberto Benigni, lì dentro c'è la pennicellina. Tantissima fantasia, tantissima immaginazione. Attraverso il metodo scientifico, attraverso il dubbio metodico, attraverso quindi l'errore come pratica di ricerca, si può arrivare a cambiare la realtà. Ci sono altri due libri importantissimi che servono per traghettare quello che vi ho detto dentro la scuola. Cioè come ci arriva questa roba dentro la scuola? Non è scontato perché comunque Rodari avrebbe potuto fare lo scrittore, scrivere cose carine, belle, favolose per bambini e così, ma poi tutta questa roba sarebbe rimasta fuori da una scuola nella quale ancora si continuava a insegnare, diciamo, con un metodo molto tradizionale negli anni 50, un metodo sicuramente che non prevedeva il metodo della ricerca, dell'errore. Ci sono due libri che servono tantissimo a cambiare la testa dei maestri e delle maestre, tantissimo. Cioè a volte veramente fanno più i libri di cento riforme. Questi due libri sono le lettere dal carcere di Gramsci e la logica di John Dewey. Quindi vado molto veloce, però tantissimi insegnanti, tantissimi giovani maestri, tantissimi piccoli maestri e maestre, professori e professoresse usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo che viene promulgata la Costituzione Repubblicana, si dicono, va bene, ok, adesso non c'è più il fascismo, adesso non c'è più un regime totalitario che ci impone il giuramento e un libro di testo unico. Adesso possiamo insegnare come vogliamo perché lo prevede la Costituzione. Ma cosa significa insegnare in uno Stato democratico? Questa è una grande novità, no? Non c'è mai stata in Italia una democrazia fino a quel momento. La democrazia è una cosa completamente nuova. I maestri che prendono seriamente questa novità si devono fare la domanda, ma che significa portarla a scuola questa democrazia? Questi due libri danno una risposta e la risposta incredibile, perché uno è un comunista finito in carcere nel 1926 e l'altro è un filosofo americano che morirà di lì a poco, appunto, che è John Dewey, dicono la stessa cosa attraverso il metodo scientifico. Bisogna usare il metodo scientifico, ma non il metodo scientifico, quello, diciamo, della certezza della scienza, quello dell'Ottocento. Dobbiamo usare il metodo scientifico, cioè il dubbio. Dobbiamo esercitare il dubbio e dobbiamo far fare ricerca. E la ricerca come si fa? Facendo e sbagliando, facendo e sbagliando. Ma la ricerca che fa e che sbaglia, che non si spaventa dell'errore, che impara attraverso l'errore, che entra nella scuola e la cambia dal suo interno, non si applica soltanto alla matematica, non si applica soltanto alla scienza. Lei è Emma Castelnuovo, ha rivoluzionato la didattica, l'insegnamento della matematica nell'Italia del Novecento. Le sue lezioni sulla geometria hanno veramente guidato il lavoro di centinaia di insegnanti e i bambini e le bambine non si sono spaventati della matematica grazie a questa donna, che ha insegnato tutta la vita alle scuole medie. Bruno Ciari, maestro di Certaldo, ha portato dentro la scuola primaria, alle elementari, il metodo scientifico in tutte le materie, anche appunto nell'apprendimento dell'italiano. Quindi, questo è un libro importante, lo metto soltanto perché a un certo punto esce questo libro che dice c'è sempre stata una separazione fra la cultura scientifica e quella umanistica, è come se ci fossero sempre due culture. Bene, in quegli anni, in quel momento, queste persone lavorano affinché questa separazione non ci sia più e la cultura scientifica trasformi la cultura umanistica e la cultura umanistica trasformi anche appunto il racconto della scienza. Perché come dice Emma Castelnuovo, per capire un problema bisogna parlare italiano. Quando un problema viene detto, deve essere detto in italiano, io non so se voi avete mai visto Letto, sì, ma anche visto Il maestro di Vigevano con Alberto Sordi, ma com'è divertente quella scena in cui Alberto Sordi, che fa il supplente in quella classe, a un certo punto deve leggere un problema che gli ha lasciato il maestro. Inizia a leggerlo e mano a mano che lo detta, non ci capisce niente e dice ma allora se una casalinga va al mercato e deve comprare un chilo di mele, poi torna a casa e ha speso 200 lire, si dimentica le mele al mercato, e allora quanti chilometri deve fare? E lui a un certo punto dice ma che vuol dire? Anche un problema di matematica è un problema di italiano. Non so se avete letto Ascolta il mio cuore di Bianca Vizzorno. Io penso che forse una... Se non l'avete letto ovviamente ci salutiamo subito, andate a leggerlo perché è uno dei libri più belli scritti nella storia della letteratura italiana. Ascolta il mio cuore è la storia di un gruppo di bambine che si ribellano a una maestra particolarmente carogna nella Sardegna degli anni 50. Prisca Puntoni, la protagonista, è una grande scrittrice che a un certo punto viene rimandata a matematica, incontra una bravissima giovane insegnante di matematica che l'aiuta a essere promossa e per regalo Prisca scrive per lei un problema, un problema di matematica che mette insieme tutti i personaggi della storia, tutte le cose che sono successe. La letteratura cambia la matematica, la matematica, l'aritmetica cambia la letteratura e le due culture non sono più separate. Rodari decide di scrivere un bel libro sugli errori, scrive a Giulia Inaudi. Questo libro purtroppo, insomma, è un libro che è poco conosciuto ma è bellissimo, sono le lettere che Gianni Rodari manda negli anni alla casa editrice Inaudi per pubblicare i suoi libri. Quelle intorno al libro degli errori sono forse fra le più divertenti perché Gianni Rodari si è messo in testa di scrivere questo libro, perché si è messo in testa di scrivere questo libro, perché non solo perché appunto da anni ormai lavora sugli errori, ma perché in quegli anni, nei primi anni 60, c'è stata la riforma delle scuole medie. Ora, la riforma delle scuole medie, lo dico per chi magari questa cosa non se la ricorda, significa che per la prima volta i bambini e le bambine fanno tutti la stessa scuola fino a 14 anni, cioè fino a quel momento la scuola era separata e dagli 11 anni in poi c'era chi faceva l'avviamento professionale e chi faceva il ginnasio per poi fare appunto dopo gli studi superiori e chi invece appunto no. Quando i due corsi vengono messi insieme, questa è una cosa che non è stata raccontata abbastanza ma è centrale, perché il problema più importante è come insegnare l'italiano, perché per la prima volta finiscono nelle stesse classi persone che l'italiano lo parlano perché sono quelle destinate agli studi superiori e a una casa famiglie che parlano l'italiano e persone invece destinate ad andare a lavorare da qualche parte, nei campi, in fabbrica, che quindi a 11 anni non importa se lo parlano questo italiano. E poi c'è un altro fatto che ha scompigliato parecchio le carte e serve un'idea nuova per insegnare l'italiano, perché non si può più insegnare l'italiano a sganassoni e brutti voti, anche se si continuerà a fare purtroppo, ed è l'emigrazione. Cioè l'emigrazione cambia completamente il problema dell'insegnamento della lingua italiana. C'è un'intervista bellissima fatta a una professoressa di Torino nel 1961, bellissima, sono 100 anni dall'Unità d'Italia e ovviamente Torino diventa la città nella quale si vengono a fare le inchieste, la RAI, per vedere com'è andata quest'unità, insomma se c'è stata, no? E vengono intervistati tutti gli operai meridionali che lavorano alla costruzione degli edifici che serviranno appunto a celebrare il centenario. E poi vai in una scuola e chiede alla professoressa professoressa ma lei in questa classe quanti bambini meridionali ha? E lei dice sarebbe più semplice far alzare i bambini settentrionali. Bambini settentrionali cioè tutti i bambini nati nel nord, cioè a Torino alzatevi e si alzano cinque bambini. Gli altri ovviamente trenta rimangono tutti seduti e il giornalista chiede alla professoressa e come fa con questi bambini? Questi arrivano qua che l'italiano non lo parlano e poi hanno a casa genitori che francamente non lo parlano nemmeno loro. Allora dice l'intervistatore lei che fa? Beh io li boccio così stanno a scuola uno, due, tre anni in più e ma no la prima volta che ho visto questo documentario ovviamente però io la capisco quella professoressa perché che strumenti ha la professoressa delle medie del 61 che si trova la riforma della scuola in cui da un giorno all'altro le arrivano tutti i ragazzini che non aveva mai pensato nella vita di averci di fronte perché erano destinati alla fabbrica, al campo, comunque a non venire a scuola e come glieli insegna quest'italiano? Che strumenti ha? Chi gliel'ha insegnato a insegnare l'italiano in un modo diverso? E Rodari dice ci penso io. Scrive a Einaudi e gli dice ragazzi qua c'è questa cosa della riforma delle medie io so che gli insegnanti hanno tantissimo bisogno di strumenti per insegnare l'italiano in un modo diverso vi propongo questo libro sugli errori. Un libro impegnato politicamente militante perché voglio andare a parlare appunto degli errori di svelare l'errore ideologico dietro quello ortografico per esempio Italia, Italia dei giovinetti fascisti no? Appunto andare a dire che quando a volte ci sono gli errori dietro gli errori c'è anche insomma qualcosa che va al di là dell'ortografia ma certo è che appunto la prima idea di Rodari è quella di fare un libro che serva a insegnare ai bambini e alle bambine la grammatica e l'ortografia a partire dal gioco non perde però di vista la questione della scienza che è un tema sempre fondamentale nel suo libro e c'è questo bello racconto che si intitola Lamento dell'occhio che fa venire in mente lì la conversazione fra Andrea e Galileo l'occhio si lamentava ahimè ahinoi da qualche secolo in quale cose per me si sono messe male ho sempre visto il sole girare intorno alla terra arriva quel Copernico arriva quel Galileo e dimostrano che sbagliavo perché è la terra che gira intorno al sole guardavo nell'acqua e la vedevo limpida e pulita arriva quel olandese inventa il microscopio e scopre che in una goccia d'acqua ci sono più animaletti che al giardino zoologico guardo in cielo in quel punto lassù è tutto nero ne sono ben certo ci vedo benissimo io ma pare che invece io mi inganni ti puntano un telescopio in quell'angolo nero e ci si vedono milioni di stelle ormai è dimostrato che io vedo tutto sbagliato sarà meglio che me ne vada in pensione bravo e dopo chi guarderà nel microscopio e nel telescopio con questo racconto Gianni Rodari appunto invita quindi ad usare il proprio occhio per continuare a sbagliare a fare ricerca e appunto a scoprire cose nuove ma gli errori che appunto stanno al centro degli errori sono chiaramente potrei sedermi ci leggiamo insieme tutto il libro e sarebbe una meraviglia ma il libro sta fuori chi ce l'ha a casa oggi se lo rilegga se no se lo compra però questa volevo leggerla con voi il ghiro d'Italia una delle mie preferite il ghiro d'Italia cosa state sulla strada come all'occhi ad aspettare il ghiro d'Italia non lo vedrete passare il ghiro miei cari è una bestia senza fretta non va nemmeno in triciclo figuriamoci in bicicletta il ghiro dorme in russa nella tana ben celata non gli passa per la testa di disputare la volata a suo modo del resto è un animale gioconto sovente l'ho veduto ballare il ghiro tondo ora ovviamente il gioco facciamo un applauso a Gianni Rodari se lo merita se lo merita perché riuscire a pensare di trasformare l'ortografia che comunque è importante io ho letto a volte cioè a volte ho letto una volta ma a me è bastata che Rodari avrebbe con i suoi libri propugnato la fine dell'insegnamento dell'ortografia e della grammatica non c'è niente di più sbagliato significa non averli nemmeno mai intravisti da lontano i libri di Rodari Rodari appunto si pone il problema in una società che cambia in una scuola che cambia di fornire alle insegnanti dico alle insegnanti perché sono tutte donne la femminilizzazione dell'insegnamento ormai nel 61 è diciamo un fatto acclarato che perché bisogna insegnare piangendo quello che si può imparare ridendo io non so se voi avete mai visto questo capolavoro della Pixar che si intitola Monster and Co qual è il messaggio fondamentale di quel film che l'energia prodotta dalle risate è più potente nora quella prodotta dalla paura no Monster and Co è un cartone animato uscito penso a questo punto 15 anni fa bellissimo nel quale si riprende effettivamente questa idea di Rodari cioè che l'energia quella è una fabbrica dove lavorano i mostri e la città dei mostri come produce l'energia elettrica andando a spaventare i bambini nel mondo degli umani notte e tempo tutte le grida dei bambini le urla dei bambini la paura dei bambini vengono incanalate in dei silos che creano energia elettrica per la città dei mostri a un certo punto attraverso una serie di avventure esilaranti effettivamente si scopre che le risate producono un'energia molto molto più grande e che una risata di un bambino serve a coprire energia con una proporzione che è quella che c'è fra l'atomica e il carbone ecco questo Rodari lo intuisce nel 1900 il povero Ane l'altro giorno ho dovuto fare una cosa su Elsa Morante dovevo leggere cose in romano e mi sentivo molto imbarazzata invece sono toscana quindi oggi ce la faccio il povero Ane se andrete a Firenze vedrete certamente quel povero Ane di cui parla la gente è un cane senza testa povera bestia davvero non si sa ad abbaiare come fa la testa si dice gliel'hanno mangiata la cip per i fiorentini è una pietanza prelibata ma lui non si lamenta è un caro cucciolone scodinzola e fa festa a tutte le persone come mangia signori non stiamo ad indagare ci sono tante maniere di tirare a campare vivere senza testa non è il peggio dei guai tanta gente ce l'ha ma non l'adopera mai questa è di tutte le filastroche del libro degli errori quella a cui sono più affezionata prima ve la leggo anzi ve la dico perché la so la mia mucca è turchina si chiama carletto le piace andare in tram senza pagare il biglietto confina al nord con le corna a sud con la coda porta un vecchio cappotto e scarpe fuori moda la sua superficie non l'ho mai misurata deve essere un po' meno della basilicata la mia mucca è buona e quando crescerà sarà la consolazione di mamma e di papà signor maestro il mio tema potrà forse meravigliarla io la mucca non ce l'ho ho dovuto inventarla ora questa filastrocca questa filastrocca all'apparenza insomma appunto no ovviamente tutte le filastroche di Rodari hanno poi comunque alla fine quel momento nel quale lui con un capovolgimento appunto lo straniamento l'anello che non tiene l'errore nella natura il cane senza la C comunque ci fa vedere qualcosa di diverso cosa ci fa vedere che la gente la testa ce l'ha ma spesso non la usa in questo caso però ci vuole far vedere una cosa un po' meno evidente un po' meno evidente e soprattutto facendo un omaggio appunto a quel gruppo di maestri e maestre di cui vi ho parlato prima ai Bruno Ciari ai Mario Lodi alle Emma Castelnuovo cioè la richiesta ai bambini e ai bambine alle bambine ma anche ai ragazzi e alle ragazze anche in età appunto anche quando sono alle scuole superiori di cose assurde come se fossero normali cioè andare chiaramente qui c'è il paradosso del poeta andare in una classe e dire oggi dovete fare il tema la mia mucca ovviamente il bambino e la bambina che non si sognano minimamente di mettere in discussione la richiesta dell'insegnante perché non hanno avuto come dire nessuna educazione a pensare che quello che accade a scuola non è come le stagioni qualcosa di inevitabile ma qualcosa che si può forse anche discutere insieme modificare il tema sulla mia mucca lo fa ma la mucca chi ce l'ha? e quindi il bambino poche persone insomma ce l'hanno qualcuno ce l'ha ma insomma non tutti allora il bambino prendendo sul serio la richiesta dell'insegnante si inventa questo meraviglioso tema appunto che qua vedete tradotto in filastrocca voi potreste pensare no? che è come dire un gioco no? un gioco una polemica una retorica una poesia però vi voglio raccontare due storie una riguarda me quando ero bambina io ero figlia proprio di due genitori degli anni settanta da manuale cioè non c'erano mai io vivevo con la mia nonna e però andavo in una scuola dove praticamente mi chiedevano sempre di fare questi temi devastanti su che lavoro fanno i tuoi genitori boh ma io proprio boh ma veramente boh ma non ve lo dico adesso cioè io mio padre stava sempre in viaggio in giro per il mondo mia madre aveva un furgone diesel che allora per metterlo in moto ci voleva ora non succede più questa cosa ma allora per mettere in moto un diesel ci volevano 25 minuti e arrivavo sempre tardi a scuola che ci faceva con questo furgone ci portava i vetri perché faceva le vetrate insomma che lavoro fanno i tuoi genitori avevo compagni di classe c'erano genitori la mamma casalinga il papà impiegato la mamma insegnante il papà medico ma i miei che lavoro facevano allora io guardavo Happy Days che era un telefilm sappiamo che cos'è Happy Days guardavo Happy Days e quindi io ce l'ho ancora questo tema ce l'ho perché la mia mamma me l'ha conservato scrivo di fronte alla domanda che lavoro fanno i tuoi genitori il mio babbo fa il geometra tutte le sere arriva a casa la mia mamma gli ha fatto la cena sceniamo insieme e poi guardiamo la televisione cioè una cosa è come la mia mucca quando ho raccontato questa storia in una scuola di Fano mi hanno invitato ho scritto un libro di storia della scuola per ragazzi e ragazze che si intitola Voi siete il fuoco e una insegnante di una seconda media di Fano l'ha fatto leggere ai suoi ragazzi e mi ha invitata a discuterlo con loro io ho raccontato questa storia del tema e una bambina una ragazza mi ha detto io ti capisco tanto dice perché anche io ce l'ho la mia mucca dico e chi è la tua mucca? è lei e mi indica una signora in fondo alla sala e mi dice lei è la mia mamma mi ha adottata però io da quando sono entrata a scuola che tutti gli anni mi fanno fare il tema il tuo primo Natale ricorda le foto di quando sei nata l'ospedale e dice io non ce l'ho queste cose non ce l'ho quindi noi ce le inventiamo la mia mucca no? allora la mia mucca è una critica radicale l'ha scritto Cambi che è stato Franco Cambi un grande studioso di storia della scuola forse la mia mucca è la critica più radicale al sistema scolastico così com'è perché ci fa capire che noi non possiamo fare richieste assurde senza preoccuparci senza domandarci di chi abbiamo di fronte questo è l'errore in blu numero due diciamo dopo la guerra quella di trattare i bambini come se fossero tutti uguali Tuglio De Mauro nel 1975 Tuglio De Mauro studioso insomma grande linguista prenderà molto sul serio Rodari da subito prenderà molto sul serio Rodari le sue filastrocche le sue storie il suo libro degli errori e a Rodari dedicherà tantissima attenzione tantissimi scritti ed è interessante come lui a un certo punto rifletta lui inizierà a a cercare di insegnare appunto di rispondere a quella domanda degli insegnanti e delle insegnanti cioè come si insegna quest'italiano in quest'Italia che cambia in quest'Italia dove tutti adesso stanno a scuola insieme in quest'Italia di emigrazione in quest'Italia dove non dimentichiamo ce l'è arrivata la televisione e quindi le persone l'italiano a questo punto lo imparano da lì non lo imparano appunto da altre agenzie no? eppure lui dice e questa testimonianza è bellissima ti ha preso parte ai corsi di aggiornamento lo sa bene per i colleghi che insegnano nelle scuole elementari e medie i problemi della didattica della lingua più angosciosi e drammatici sono i problemi dell'ortografia cioè lui dice tu puoi insegnargli qualsiasi cosa gli insegnanti puoi insegnargli appunto tutte le teorie del mondo però viene sempre il momento in cui si alzano in due o in tre dieci insegnanti e cominciano a parlare dei guai dell'ortografia dice ma tutte queste cose di cui parlate ma che importa ma se mi scrivono egli A senza H è terribile con due B nuove tecniche didattiche per l'arricchimento del vocabolario benvenute ma prima diteci cosa dobbiamo fare con i ragazzi che scrivono conoscente con la I ed efficiente senza I allora questo ovviamente ci racconta quanto poco sul serio viene preso l'impegno di Rodari e di chi come lui propone un modo serio per insegnare l'ortografia a partire dall'errore però appunto attraverso il gioco ovviamente entra tantissimo dentro la scuola al punto che i nuovi programmi del 79 quelli dell'85 tantissime cose le prenderanno però insomma rimane questa paura dell'errore dell'errore d'ortografia dell'errore appunto grammaticale come una cosa sulla quale bisogna fare proprio un gran rigaccio non riderci sopra e appunto e andare oltre Gianni Rodari scriverà un testo molto bello di cui vi riporto soltanto questa frase per dire quanto invece noi dobbiamo proprio cambiare punto di vista quando ci rivolgiamo all'educazione dei bambini e delle bambine e appunto e ci poniamo di fronte ai loro errori perché appunto gli errori più grandi li facciamo noi noi siamo i gradini della scala che il bambino sale lui dice no l'adulto ha questa funzione l'adulto è una scala è bella l'immagine della scala perché la scala la scala è qualcosa che serve per andare oltre serve per salire serve per crescere ma non è qualcosa che ti ostacola è qualcosa che ti aiuta ti dà una spinta però dobbiamo stare attenti ai gradini che abbiamo dobbiamo stare attenti a come noi gestiamo i nostri errori di adulti perché molto spesso appunto se non ce ne rendiamo conto rischiamo di essere scale pericolanti e scale appunto che fanno cascare i bambini e le bambine mentre loro comunque cercano di salire attraverso di noi la mia mucca no? quello è un tentativo del bambino della bambina di rispondere a questa richiesta dell'adulto ma se l'adulto ti dà una mano e ti porta da qualche parte dove tu non puoi andare non riesci ad andare non hai gli strumenti per andare cadi infine quindi a che cosa serve sbagliare? serve per immaginare quindi una relazione diversa con l'infanzia una relazione diversa con il mondo a non avere più la guerra a non avere più la fame la paura e soprattutto appunto a immaginare un mondo diverso e quindi mi sembra importante chiudere con questa filastroca che non fa parte del libro degli errori ma viene dalle filastrocche in cielo e in terra che è proprio un omaggio allo sbagliare le storie per inventarne di nuove perché lo scriveva Italo Calvino nell'introduzione alle fiabe italiane le fiabe le storie qualsiasi storia diciamo racchiude tutti i destini che gli uomini e le donne possono darci ma questi destini non sono scritti una volta per tutti in ogni storia possiamo cambiare l'esito in ogni storia possiamo cambiare il carattere dei personaggi possiamo far diventare l'orco buono e la principessa una carogna possiamo far diventare la sirenetta nera possiamo trasformare le favole come ci pare possiamo non aver paura di dire che quel principe che va a baciare la bella addormentata nel bosco ci ha rotto le scatole possiamo permetterci di cambiare i destini anche delle fiabe perché le fiabe sono appunto la materia che ci siamo dati per inventare e immaginare destini nuovi ho conosciuto un tale di Sandona di Piave che voleva raccontare la storia di Biancanave cacciato con vergogna scappò fino a Terontola e cominciò a narrare la storia di Cenerontola di là fuggi in Sardegna si fermò a Bordigali e cominciò la storia del matto con gli stivali girò tutta l'Italia la Francia e l'Ungheria sempre a sbagliare storie e a farsi cacciare via e ancora gira e spera ancora di trovare qualcuno che abbia voglia di starlo ad ascoltare qualcuno che capisca che sbagliando per prova con una storia vecchia si fa una storia nuova grazie 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 grazie